Scusa Scusa Ehi Scusa Ciao Hai mai pensato come vivi una persona? Una persona con disabilità? Per esempio ti sei mai chiesta come percepirci le cose una persona ipovedente? Ipoche? Ipovedente Uno che ci vede pochissimo No, non sono mai pensato Ottimo, allora vieni con noi Nome e occupazione? Sono Anna, lavoro in un negozio di vestiti Bene Anna, adesso ti facciamo provare questi occhiali speciali In pratica simulano la percezione di una persona ipovedente Oddio, è tutto sfocato, non vedo niente Mamma mia Adesso Anna, prova a usare questo computer E come faccio? È impossibile usare un computer senza vederci Per i non vedenti e gli ipovedenti un grande aiuto arriva dalla tecnologia Computer, smartphone e tablet sono dotati di assistente vocale che ne consente il pieno utilizzo Io sono non vedente ma con l'assistente vocale svolgo il lavoro di programmatore di app per smartphone Per gli ipovedenti è utile il sistema di ingrandimento dello schermo Ehi, ti sei mai chiesto come percepisce in realtà una persona con disabilità uditiva? No! Benissimo, allora vieni con noi Mi chiamo Biagio e faccio il restauratore Bene Biagio adesso ti mettiamo queste cuffie qua Simulano elettronicamente la percezione di una persona con disabilità uditiva Sasa, prova Sono portatrice dell'impianto cugliare Conosciuta anche come retiopionico Questo impianto mi permette di migliorare notevolmente la mia capacità uditiva E di svolgere il mio lavoro al meglio No, no, scusate, scusate, si sente poco e molto confuso E se mi parlate uno sull'altro io non capisco niente Tra l'altro non sento niente Una esigenza particolare per le persone solite Incheni trinocultori Non urlina che non parli In modo concitato Ecco, vediamo se cosa va meglio Adesso mi capisci il biagio? Adesso si Io mi chiamo Carlo e lavoro in una società di servizi Bene Carlo, adesso andiamo a fare un giro in carrozzina Così potrai intuire com'è il mondo per una persona con disabilità motoria Polettieri, non ho mai portato una carrozzina Mercoledì alle 15.30 taglio e colore Conferma? Grazie Io sono circa 30 anni che sono in carrozzina E tu non sai quante volte mi è capitato di non poter scendere dal marciapiede Perché una persona irresponsabile ha parcheggiato la macchina male A volte basterebbe un minimo di attenzione e considerazione in più da parte delle persone Per rendere le cose più semplici Basterebbe poco E' proprio questo poco che manca Perché i presupposti ci sono Ma poi manca il tassello per completare il quadro e far funzionare il tutto E allora quel poco diventa tanto Grazie alla tecnologia un non vedente con computer, tablet e smartphone può fare qualsiasi cosa Ma poi capita che viene assunto in un ufficio dove hanno un software aziendale obsoleto che risulta inaccessibile e lui resta tagliato fuori Sarebbe bello che tutte le persone mi prendessero un tonno pagato Sempre Poi, a parte le difficoltà pratiche, c'è il problema del pregiudizio Che forse è anche più difficile da scalfire Eh sì, perché c'è anche chi pensa che una persona con disabilità non abbia doti e risorse da mettere in campo E poi ci sono disbarità che riguardano la retribuzione e la possibilità dell'avventamento di carriera Mere e proprie discriminazioni La gente vede solo la disabilità e non considera la persona con le sue capacità Ci sono molti pregiudizi in giro, te lo dico io Uno magari non se ne rende conto, ma nei confronti dei disabili ci sono tanti pregiudizi Spesso anche nelle persone più in buona fede Soprattutto quando si tratta di disabili che lavorano Ma che bisogno ha negli disabili di lavorare per racci? Chi glielo fa fare? Non prendono la pensione di invalidità, beati loro Devono venire a togliere il lavoro alle persone normali Secondo la legge, le aziende hanno l'obbligo di assumere un disabile Ma è una cosa giusta? Per l'azienda, intendo E poi che lavoro gli fai fare? Vabbè, il cieco fa l'accentralimista oppure i massaggi Io sto già carica di lavoro per conto mio Ti pare che devo pure perdere tempo a stare dietro a uno di questi? Però dai poverini, noi siamo fortunati, dobbiamo essere caritatevoli Il lavoro mi inserisce nella società Comunque sia mi sento utile per gli altri E il fatto poi di stare a contatto con le persone Di parlare, di regalare un sorriso a un cliente Mi fa stare poi in armonia con me stessa Quando ho iniziato a lavorare sentivo di avere qualcosa da esprimere Sia come doti personali, sia come nozioni apprese a scuola Il lavoro mi ha consentito di esprimere queste qualità Il lavoro per una donna è una grande confinità Piacalmente con disabilità Perché? Sì, è ovviamente inscriminata Il lavoro a me mi fa andare oltre la disabilità Perché diciamo che la gente ti vede in quanto disabile e basta Invece lavorando vengo considerata di più Quando lavoro mi sento viva E mi sento una persona come tante altre Per me il lavoro, oltre ad essere una fonte di sostentamento E' anche il luogo dove si realizzano degli obiettivi comuni Insieme agli altri Si realizzano cose belle e utili Il lavoro mi rende indipendente Autonoma e libera Non gravo sulle altre persone Sono indipendente a livello economico E vado avanti da sola Di difficoltà ne ho avute tante Mi sono dovuto adattare ai mezzi che avevo a disposizione Ho dovuto affrontare i pregiudizi degli altri Dimostrare che ero in grado sia di dare che di ricevere Poi a volte ci sono pure le difficoltà che trovi con i colleghi Che hanno un po' tra virgolette di timore Perché pensano, è arrivata la persona disabile, come faremo con lei La più grande conquista per me è stata ottenere la fiducia dei colleghi E la consapevolezza che avevano voglia di lavorare con me Ho una speranza Un cambiamento radicale della cultura Che è capace di eliminare tutti i pregiudizi, gli stereotipi Non si vorrebbe tanto Ma andrebbe una corretta informazione Trovare il lavoro oggi è difficile per tutti Per i disabili ancora di più Quindi quello che mi augurerei io è avere le stesse possibilità di un normo dotato Anche se poi in realtà è ancora difficile questa cosa E poi le barriere mentali sono quelle ancora più difficili da abbattere Non deve essere una pranta Deve diventare una realtà Allora ragazzi, com'è stata questa esperienza? Devo dire che ho scoperto tante cose che sinceramente non sapevo Mi ha colpito il fatto che in genere, sai, uno pensa che sarebbe bello non dover lavorare, no? E invece? Io ho capito che diamo per scontate troppe cose E che basterebbe un po' più di consapevolezza e anche apertura mentale Bene gente, oggi abbiamo fatto un passo in avanti O forse di lato Per avere una prospettiva nuova Per avere una pronta Perché questo sia una specieimpà! In il contesto penso che non sirà E riempлетare il box 1 Pettuccini alla lucignolo e ricantoni a ragù, ecco a voi e buon appetito. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie per la visione!